widget del bilancio il widget del bilancio visualizzabile all'interno della barra degli strumenti permette di avere sempre in primo piano e aggiornato in tempo reale le informazioni sintetiche presenti sul bilancio è possibile innanzitutto personalizzare le voci presenti su widget della finestra di configurazione accessibile tramite menu strumenti configurazione generale selezionando la voce dispositiva selezionando la voce bilancio e poi widget all'interno della finestra è possibile scegliere quali campi visualizzare all'interno dei widgets spostando i campi da sinistra a destra per rendere visualizzabili una volta terminata la personalizzazione dare clic su conferma qualora si sia in possesso di più conti correnti è possibile modificare il conto per il quale visualizzare informazioni agendo semplicemente con il menu contestuale attivabile con il tasto destro del mouse cliccando il tasto destro accederò a selezione dei conti e potrò quindi cambiare da un conto all'altro nel caso ne avessi più di uno infine è possibile procedere agevolmente alla destinazione di nuova liquidità semplicemente facendo doppio clic all'interno del widget sulla voce liquidità disponibile e indicando l'importo che si desidera destinare e poi cliccando su invio in questo caso andiamo ad incrementare la liquidità disponibile passandola da 5.000 a 2.000 euro semplicemente diamo l'invio con la tastiera e vedete che la liquidità è automaticamente aggiornata